Sono regolarmente riprese le partite di play-off nei campionati regionali e provinciali, rinviate per il timore del maltempo lo scorso weekend. In eccellenza, l'Accademia Borgomanero, impegnata nell'andata del primo turno degli spareggi nazionali per salire in Serie D, è stata sconfitta in casa 0-1 dalla Lavagnese. Finali dei play-off di Girone invece nelle altre categorie. In promozione la Pro Novara ha sconfitto 2-1. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.